Questa è la famosa Chicago Pizza, città che si è proclamata capitale della pizza. Ci troviamo a Giordano's Pizza, la catena di pizze Chicago più famosa del mondo. E la peculiarità di questo cibo è che il formaggio cola. Guardate quanto è mozzarellaosa, ed è una pietanza che si mette al centro del tavolo, in cui ognuno prende il proprio trancio. E la preparazione consiste nel mettere un impasto in un tegame, pissarlo per bene, riempirlo di ingredienti come il salame peperoni, e successivamente riempire tutto di mozzarella per poi coprire con un altro impasto, su cui verrà messo il sugo di pomodoro o sugo marinara. E guardate quanta mozzarella, sicuramente metto questo cibo nella mia classifica dei miei cibi preferiti americani, forse perché amo il sugo e la mozzarella, i salami peperoni o l'impasto biscottoso, solo che da italiano quali sono non definirei pizza questo cibo. E' buonissima ma di certo Chicago non è la capitale della pizza. E vedi che ti mangi.